Ciao, eccomi qui in un posto veramente speciale che si chiama Arcosanti. Questo luogo è un progetto, uno dei progetti, dell'architetto italiano Paolo Soleri che voleva realizzare delle città ecosostenibili dove la gente potesse muoversi a piedi, vivere in contatto con la natura, dove potesse avere dei ritmi che fossero armonici per l'essere umano. Lui aveva questo grande sogno e ha iniziato a realizzarlo e tra i vari grandi progetti che lui ha portato avanti questo è veramente speciale, ci sono ancora delle persone che stanno portando avanti il suo progetto che lui non ha finito mentre era in vita, ma ci sono tante altre persone che credono in questo progetto e si stanno permettendo di portarlo avanti. Te lo faccio vedere, è veramente magico. Siamo fortunati perché abbiamo anche la luce del tramonto e pensa a qualcosa che sopravvive all'essere umano che l'ha sognata e che ha iniziato a crearla. Lui ha realizzato questo grande progetto che ancora oggi vive. Cosa potresti fare tu di altrettanto magico nella tua vita? Un abbraccio forte, ciao!